Sì in bianco e nero che a colori, i discorci di Bologna. Sono proprio il centro di Bologna, la parte che riguarda il via Santo Stefano, il baraccano, che rispondono più punti di vista, la zona della Camera di Commercio, della mercanzia e alcune strade principali. Volevamo fare questa domanda a Nicoletta, poiché abbiamo queste prospettive particolari, questi tagli, diciamo così, anche un po' architettonici, particolari. Visto che tu sei anche pittrice, oltre che fotografa, quando tu dipingi o quando tu realizzi una fotografia, ci sono dei collegamenti poi tra il discorso fotografico e il discorso pittorico, cioè nelle tue prospettive pittoriche. Ti basi sul gioco fotografico, sui tagli, oppure no? Non sono due cose distaccate? Sì, in realtà sì. Spesso quando lavoro poi in pittura, lavoro sempre su delle immagini che ho preso io. Il gioco che mi piace fare con la fotografia è quello di cercare forme e colori che sono già in loco. E quindi combinare, sono molto curiosa di vedere proprio i punti di vista ribassato o dall'alto, per vedere come le linee andranno a costruire un'immagine. Perfetto. Già lì, già fatto, qualcosa di già fatto. È quello che mi diverte nella fotografia. E lo ricordo.